buongiorno a tutti da sballo dal canale sballo tv inizio questo video prima di tutto per invitarvi a iscrivervi al mio canale sballo tv che troverete nella ricerca basta che digitate sballo tv eccolo qui quando vedete questo biondo con questa bandana sono io sballo tv e soprattutto ad ascoltare la nostra bellissima canzone dal canale che troverete se siete dei nuovi iscritti vi apparirà subito in primo piano ma passiamo subito al succo di questo video e il succo di questo video è sempre la solita storia come comportarsi correttamente verso un altro vostro collega youtuber e quindi aiutarlo aiutarsi a vicenda per raggiungere la monetizzazione allora ora io entrerò nel canale della mia amica vanna ok ho scelto un canale giusto a caso per farvi capire come comportarsi correttamente allora questo è il canale della mia amica vanna attrice teologa cantante e venditrice di alcolici cioè una super donna in poche parole quindi se a me piace questo canale io mi iscrivo qui dove c'è scritto iscritto io sono già iscritto mi iscrivo e attivo la campanella inviami tutte le notifiche da questo canale quindi io adesso le ho attivate adesso ma erano attive anche prima fidati 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 e quindi cosa fare poi se mi piacciono i contenuti che porta vanna che il suo vero nome è lucia di zillo cosa faccio? apro un video o una live vado su video apro un suo video tipo questo il più forte e mi guardo tutto il video se sono interessato e mi piace questa persona non è che mi metto a guardare due secondi e poi qui nei commenti vado qui a commentare e scrivo salame bollito like oppure scrivo bella bro sono passato ricambi da me oppure buona domenica anche se oggi è lunedì allora questi sono commenti che danneggiano la collega stessa in poche parole se siete interessati a un canale dovete lasciare un commento sensato lasciare un like al video o un dislike questo dipende da voi ma la cosa importante dovete visualizzare tutto il video non saltellare nel video o scrivere un commento di 2 secondi poi chiudere tutto allora se io voglio lasciare un commento sensato a vanna alla via vica vanna su questo video prima lo guardo tutto e capisco che cosa ha detto e cosa non ha detto e poi commento scrivo un commento sensato tipo mi piace molto la tua dialettica sei molto spontanea e profonda nelle tematiche che porti vai avanti così da parte mia avrai il mio pieno supporto questo è già un commento più sensato quindi si aiuta la youtuber a crescere se invece scrivete come ho fatto vedere prima un commento di 3 secondi chiudete il video mettete dei dislike a raffica a parte che i dislike fanno solo che piacere perché anzi i dislike possono anche viralizzare il video ma se scrivete commenti di 2-3 secondi chiudete subito il video o chiudete subito una live o anche in una live andate e scrivete passa da me vieni nella mia live o mi disiscrivo minacci di qui, minacci di là non otterrete vai nulla anzi l'unica cosa che otterrete verrete segnalati come spam e metterete a rischio il vostro di canale di youtube quindi allora capisco che uno possa avere degli impegni lavorativi e sarcasso di altri problemi allora o seguite o lo seguite altrimenti andate a iscrivervi in palestra andatevi all'Ippica andate a mungere le vacche dallo zio Tom ma vi raccomando se seguite veramente un canale youtube bisogna comportarsi come ho spiegato finora commenti sensati cercare di guardare tutto il video e partecipare alle live bene con questo direi che posso chiudere qui questo pippone che ho fatto ricordo ancora tutti di iscrivervi alla mia amica vanna vi lascerò il link in descrizione e di iscrivervi anche al mio canale sballo tv nessuno è obbligato non obbligo nessuno con questo terminerei qui questo video salutando di nuovo la mia amica vanna marchi che vedete qui in primo piano in questo suo video il più forte e alla prossima da sballo tv yeah